Ci sono tantissime persone che si lamentano del fatto che non hanno mai soldi, non riescono mai a mettere da parte nulla a fine mese, non riescono a mettere da parte nulla alla fine di un anno lavorativo, nonostante magari hanno un buon lavoro, uno stipendio normale, eppure non riescono a capire dove vanno i soldi, non riescono mai a risparmiare un singolo euro ogni mese. Sì, magari hanno quel qualcosa in banca, quel cuscinetto, che però non cresce mai, è sempre lo stesso, e appena succede una cosa fuori programma, tipo si rompe la macchina, il conto risparmio si assottiglia sempre di più. Poi quando si arriva a situazioni critiche, perché magari il conto arriva in rosso, allora si impegna di più, si lavora di più, si tagliano delle spese e si riporta il conto a una situazione di stabilità o più o meno come era prima. Ma non è sostenibile nel lungo periodo, cioè una persona che lavora, che ha uno stipendio normale, sia da dipendente, sia da libero professionista, ma anche un imprenditore che si stacca il profitto da quella che è la sua azienda dovrebbe provare un minimo a prendere parte di quello che guadagna e risparmiarlo, accantonarlo, per il futuro. Non perché quei soldi ce li portiamo nella tomba, come si sente sempre dire, ma semplicemente perché stiamo finanziando un futuro incerto. Potrebbe essere un futuro in cui saremo per un anno senza lavoro, ci potrebbero essere dei problemi di salute che dobbiamo finanziare. Insomma, il risparmio non è mai troppo, io sono di questa scuola di pensiero. Prima di cominciare con il video ti invito a iscriverti al canale. Trovi il pulsantino rosso qui in basso con scritto iscriviti, perché questo ti aiuterà a non perdere i nuovi video, i nuovi contenuti, sempre a tema soldi, finanza personale, risparmio, investimenti. Parliamo anche di business, marketing, criptovalute, insomma tutte cose legate ai soldi. E ho buone ragioni di credere che se sei in questo video questi argomenti ti interessano. Quindi iscriviti e distruggi il tasto dei mi piace. Il primo trucco per risparmiare è eliminare dalla nostra vita tutti quei vizi che ci tirano fuori soldi dalle tasche. Tra questi ci sono le sigarette e l'alcol. Gli italiani sono avidi consumatori di sigarette. Ovunque ti giri c'è qualcuno che fuma. Però è uno di quei vizi che veramente ti prosciuga il conto. C'è quest'articolo di Repubblica che dice Fumo, chi smette guadagna da 3 a 9 anni di vita e 1250 euro all'anno. Ma sapete quanti sono 1250 euro all'anno? Magari sono gli stessi che li spendono che dicono anche che non gli rimane nulla, che non hanno mai soldi per, che ne so, un viaggio. Grazie, te li fumi. Voi immaginate risparmiare 1250 euro all'anno. In 20 anni sapete quanti sono? Sono 25.000 euro. Ora, se tutti questi soldi risparmiati, oltre a risparmiarli e già comunque arrivare tra 20 anni a 25.000 euro solo perché smettiamo di fumare, invece di fumarli, quei soldi li prendiamo e li mettiamo in un conto a parte, che non tocchiamo. Tanto li avremmo fumati, quindi che cambia? Li prendiamo e li mettiamo in un conto che noi non tocchiamo. 1250 euro l'anno. Poi se vogliamo fare una cosa un po' più avanzata, invece di tenerli da parte, così fermi, senza produrre nulla, immaginiamo di investire quei soldi. Con l'interesse composto sapete a quanto arriva? Ve lo dico subito, facciamo insieme il calcolo. Capitale iniziale 0, aggiunte annuali 1250 euro l'anno, che voi vi state beatamente fumando. Anni di crescita, 20 anni. Tasso di interesse, mettiamo il 7%. Calcolare, voi tra 20 anni avete oltre i 25.000 euro di montante semplice, cioè di quello che avete risparmiato, al 7% avete 54.000 euro. Al 7% poi, non mi dite, ma il 7% chi te lo dà? Se investi in buoni postali non lo vedrai mai. Ma se investi in azionario, ci sono video su YouTube, vi lascio magari delle schede, in cui ho parlato proprio di questo. Il 7% è una performance anche abbastanza bassa, in 20 anni. In 30 anni, 1250 euro, quanto fa? Fa 126.000 euro. Vi ci comprate una casa in 30 anni. Invece ve la state fumando, quella casa. Ecco, questo è uno dei vizi che dobbiamo assolutamente rimuovere dalla nostra vita. Se sei un fumatore, prendi seriamente in considerazione questo calcolo, perché magari fumi uno, due, tre pacchetti al giorno, sono una marea di soldi che se ne vanno. Poi ci credo che non hai soldi da parte, che non hai risparmi, te li stai fumando. Il secondo trucco per risparmiare è controllare e stare attenti alle commissioni bancarie. Questo è un costo abbastanza insidioso perché tutti teniamo i soldi in banca, tutti facciamo bonifici, tutti ricarichiamo lo stipendio in banca magari, o facciamo un versamento, tutti usiamo la banca. Però ci sono banche che convengono, perché magari sono gratuite, ti mettono a disposizione movimenti e operazioni bancarie in modo gratuito, tipo i bonifici, e altre che i bonifici te li fanno pagare. Uno, due euro, un euro e cinquanta. E questi sono costi anche abbastanza importanti. Se fate dieci bonifici al mese, sono cento, venti euro l'anno, semplicemente per aver usufruito di un servizio bancario che altre banche ve li danno gratis. Perché magari costa un euro a bonifico. Le poste, ad esempio, ci sono molti che hanno conti alle poste, le poste fanno pagare un euro a bonifico. Io personalmente, se faccio dieci bonifici al mese, che mi capita, non vado a lasciare cento, venti euro l'anno alle poste. Oppure un altro costo insidioso è quello dell'imposta di bollo, ovvero andate a pagare annualmente trentaquattro euro e venti se la giacenza media del conto è superiore ai cinque mila euro. Ma se uno sul conto ha dieci mila euro, otto mila euro, posso lasciare allo Stato, perché già, insomma, gliene diamo parecchi, ma posso lasciare anche trentaquattro euro e venti l'anno così, solo per tenere i miei soldi in banca. È un costo insidioso. Questo è uno dei costi che potrebbe essere rimosso, tagliato fuori, avendo più conti. Magari se hai nove mila euro da parte, io farei due conti in uno quattromila e cinque, nell'altro, nella restante parte, così che non superi i cinque mila euro e non vai a pagare i trentaquattro euro e venti l'anno. Questi sono piccoli dettagli, soprattutto le commissioni bancarie, che a fine anno comunque incidono sul bilancio. Cioè, un euro a bonifico, trentaquattro euro l'anno per tenere più di cinque mila euro sul conto, va a finire che alla banca noi, a fine anno, alle poste alla banca, quello che è, gli diamo centocinquanta, centosettanta, centottanta euro. Io quei soldi preferirei tenermeli da parte. Il terzo trucco per risparmiare è quello di controllare le nostre uscite in fatto di cibo. E di cibo sto parlando non di spesa, perché quella dobbiamo farla e magari faremo un altro video in cui andremo a spiegare come risparmiare sulla spesa, ma parlo proprio di o colazioni fuori, o pranzi fuori, cene fuori. Questi sono soldi importanti che magari a settimana tu dici, ah vabbè, ho speso 40-50 euro. Sì, ma fai la stima a fine anno. Io non sto assolutamente dicendo che bisogna vivere come estremi e sociali o in condizioni di malata frugalità, cioè che non fai nulla. No, assolutamente. Godetevi la vita, i soldi vanno guadagnati e vanno spesi per godersi anche la vita. Però se riportiamo tutte le nostre spese su carta e facciamo una stima annuale, poi da lì bisogna fare un po' di conti e capire se veramente sono soldi ben spesi. Ad esempio, se noi facciamo una colazione fuori, al bar, a settimana, sono 3 euro, ok? Il cappuccino e il cornetto. Questi 3 euro a settimana all'anno sono 144 euro. Tu dici, vabbè, sono 3 euro a settimana, sono 3 euro, non incidono. Ma se noi lo facciamo una volta a settimana sono 144 euro. Ce lo possiamo permettere? Va benissimo, fantastico. Però se ci lamentiamo che a fine anno non riusciamo a mettere nulla da parte, dobbiamo anche fare questi conti. Se invece ne facciamo 3 di colazione a settimana fuori, a 3 euro, sono 9 euro a settimana. 9 euro a settimana sono 430 euro l'anno. Sono conti che andrebbero fatti per capire come limare un pochettino la spesa. Oppure pranzi e cena fuori. Metti caso che spendiamo 30 euro a settimana per pranzare fuori, per cenare fuori. 30 euro a settimana sono 1450 euro l'anno circa, per pranzare fuori, per cenare fuori. Non sto dicendo che è sbagliato farlo. Sto dicendo che se siete in condizioni di ristrettezze, perché non riuscite a mettere da parte nulla, perché a fine mese non vi trovate con i soldi in tasca, magari fare questi calcoli e capire dove limare può essere molto utile. Perché sono 1440 euro in più all'anno. Che, se vi facciamo il discorso di prima, se si sommano le sigarette, investiti in 20 anni, in 30 anni, possono superare i 200.000 euro, 300.000 euro con l'interesse composto. Il quarto trucco per risparmiare è fare attenzione ai ritardi nei pagamenti. Se hai dei pagamenti da saldare, fallo subito, fallo in anticipo, se puoi. Se non puoi, mettiti in condizione di farlo, perché altrimenti scattano gli interessi di mora. E quindi tu devi pagare degli interessi su un pagamento che devi fare. Sei a debito e hai anche gli interessi su quel debito. Non è assolutamente la situazione in cui vi vorreste trovare, se siete in ristrettezze, se siete in bisogno di risparmiare. Quindi assicuratevi di saldare le vostre bollette, i professionisti con cui lavorate, le tasse, le carte di credito in tempo o addirittura in anticipo. Così evitate spiacevoli sorprese e potete risparmiare sugli interessi che altrimenti si andrebbero a generare. Il quinto trucco per risparmiare è limitare gli abbonamenti. Questa è una delle cose più pericolose, perché molte volte gli abbonamenti si fanno, magari si utilizzano anche poco. A chiunque è capitato di segnarsi in palestra, magari fare l'abbonamento annuale, ci va tre mesi, poi per due mesi non ci va, poi ci riprende. Ecco, quelli sono abbonamenti che tu intanto hai pagato per tutto l'anno. O che magari paghi mensilmente, ma ogni mese ti scalano l'addebito, ti fanno l'addebito sul conto corrente. Sono però abbonamenti, che magari usi e non usi, che ti scalano dei soldi. Fare attenzione e catalogare quelli che sono gli abbonamenti attivi può essere molto utile per capire dove stanno andando i soldi. C'è chi ha la palestra, c'è chi ha Spotify, c'è chi ha Netflix, c'è chi ha i software sul computer, come ad esempio OneDrive, Excel, Google Drive, c'è chi ha le app sul telefono per giocare, per dimagrire. Se si va a fare un quadro degli abbonamenti attivi, molte persone magari spendono 80, 90, 100 euro al mese solo di abbonamenti e neanche se ne accorgono. Gli abbonamenti inconsapevoli sono una delle più grandi trappole, perché ti succhiano soldi dal conto in maniera automatica, cioè non sei tu a fare il pagamento. Perché pensaci, se dovessi rinnovare tu manualmente ogni mese un abbonamento, magari dici, vabbè, sto mese salto perché non mi serve. Razionalizzi un po' di più la questione. Dici Netflix, vabbè, questo mese non lo guardo, risparmio 12 euro. No, invece, sono automatici e ti succhiano ogni mese dei soldi dal conto. Questo è un altro trucchetto per risparmiare, limitare gli abbonamenti. Un ultimo trucco per trovarsi dei soldi in più sul conto corrente a fine mese è limitare gli acquisti impulsivi. Saldi, sconti, offerta dell'ultimo minuto. Ovunque ci giriamo, se andiamo al centro commerciale, se andiamo... Ma anche adesso nei siti web, se apri Amazon, ci sono le offerte del giorno. Sono tutte leve di vendita che sfruttano la scarsità, cioè l'ultimo momento. Devi farlo adesso perché altrimenti scade l'offerta e perdi lo sconto. Sponto magari del 5%. Però sono acquisti guidati dall'impulso che ci fanno acquistare perché non vogliamo perdere l'offerta. La domanda è, ci serve veramente quella roba, quella cosa che stiamo acquistando? No, possiamo farne a meno? Bene, prendiamo quei 10 euro, 20, 100, 1000 euro che stavamo per spendere, li prendiamo e li mettiamo in un conto che non tocchiamo, tanto li stavamo per spendere. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Fammi sapere con un commento quale di queste strategie hai applicato, conoscevi, hai utilizzato, oppure proverai a utilizzarla adesso che io le conosci. Basta solamente una di queste strategie applicate per trovarsi in banca. Molto, molto di più di quello che si ha attualmente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Da Riccardo è tutto. Ciao.